DUNISIANI Voi state dicendo ma come Avrete già letto il titolo ovviamente Vi starete chiedendo ma come Ma cosa sta dicendo DUNIS Queste sono tutte frecce Sono che frecce Vi spoilerò una freccia molto figa Cioè veramente bellissima Guardate se io prendo e faccio Sbadebempet Mamma mia avete visto Io posso fare Questo No posso fare oh no Sono scemo in realtà Ok perfetto quindi allora praticamente dobbiamo sopravvivere Con queste frecce super potenti No che fanno i fulmini Fanno cose però quelle le vediamo fra poco Cioè nel senso adesso Vi volevo far vedere anche una freccia che per esempio Per esempio se trovassi una pecora Mannaggia alle pecore vabbè Non so se la troverò mai la pecora probabilmente no Anzi sicuramente no Vero soprattutto perché io quando ho bisogno delle pecore Non ci sono mai Vabbè insomma praticamente queste sono frecce colorate Che colorano le pecore E tipo la lana eccetera Altre cose no Che si possono colorare Molto belle queste Però allora praticamente Cos'è che si fanno su minecraft Prima che arrivino i mostri veloci Vabbè nella normale vanilla A parte le frecce no Si fa la crafting table Si fanno i picconi Le spade Queste cose sono molto importanti da fare no Perché ci dobbiamo preparare alla notte Però Non sanno i mob che cosa li aspetta I mob non lo sanno affatto Nananananana Non lo sanno affatto i mob Questi mob schifosi Ora vedrete che fine faranno Vedrete Perché finora mi hanno sempre fatto dei Ma ma adesso io ho l'arma perfetta in mano Eh Che Che potrà distruggerli una volta per tutte Mannaggia a loro E alle loro Chiappette Ok Allora però scusate mi serve una caverna Datemi immediatamente una caverna Subito Non ci provare o la furia si abbatterà sulla tua Ma vai a cagare Va Tu Maledizione Questi archi bisogna stare attenti eh E bisogna evitare l'onnipotenza Perché qua poi dopo ci si fa male da soli Brutto schifoso Muori male Muori Allora Sto diventando leggermente megalomane Cioè Pazzo Malato di mente Eh Fra poco porca miseria Adesso vi faccio vedere io a questi mob schifosi Cos'è che adesso posso fare Cos'è che sono diventato sardo Brutto schifoso Muori male No Non è No Eh però scusate se mi colpisco in pieno Eh Ma te ne Vai via Guardateli là Il dio di Minecraft si abbatterà sulle vostre teste o creature Evitate di fare cose Ah Ok perfetto Guardate che queste frecce danno danno alla testa Darebbero la testa a chiunque Adesso tu Tu schifoso Te ne vai Te ne vai via per sempre Via da qua Oh Ma no Duniziani queste frecce seriamente danno alla testa Oh però qua Qua Abbiamo l'asso nella manica Qua abbiamo cose inimmaginabili per l'umanità Qua Abbiamo la potenza dell'esplosione L'esplosione più potente di Minecraft Farà sorgere gli inferi E darà Darà Filo da torcere alle persone e ai mob che se lo meritano Allora prima di tutto spawnate mob schifosi Altrimenti Duniz si nervosisce come una scrofa Veloci Ho detto Presentatevi dinanzi a me Dinanzi al dio di Minecraft Stiamo attenti È duniziani Madonna Perché non muore scusate Cioè seriamente ci servono 30 ore per Allora comunque Dicevo Questa è l'esplosione più esplosiva di tutte quante Esplodi oh creatura Senza esitare Esplodi E non Essere contrario all'esplosione Boh vabbè non so cosa sto dicendo Sto dicendo cavolate Qua però c'è l'acqua Vabbè con l'acqua diventa un po' più Gestibile la situazione no Il dio di Minecraft diventa un po' più tranquillo no Perché gli spruzzi addosso dell'acqua al signore Guardate guardate Qua c'è il signor ragno Che è tutto quanto schifoso Brutto Eh Che però gli sto sparando dell'acqua addosso Allora Ma perché Ma perché Ma per favore Oppure ma Però scusate ma queste Allora Le ice cose non hanno un minimo di senso Di esistere praticamente Però quelle che hanno Che sono più fighe Secondo me sono proprio quelle di fulmine Sono quelle là Cioè secondo me Sono quelle Scrivetemi nei commenti Qual è la vostra più preferita Eh Scusatemi eh Ma vi immaginate tipo una sfida Non ci provare Non ci provare No Ho creatura Tu Hai osato sfidare di nuovo Il dio di minecraft Oh Mi spiace anche che magari In questo periodo c'è un altro dio di minecraft No Però Siamo due dei diversi Ok Io sono Il dio che uccide i mob Oh Tu schifoso Te ne vai via immediatamente Non potrai fare niente Contro l'onnipotenza E mai nominare il nome Di Del dio Ok Devo stare calmo Perché se no Tu schifoso Te ne devi andare Oh mio dio No scusate Un disegno È una cosa che mi sta prendendo un sacco Adesso Prendo le esplosioni Più totali E faccio esplodere Tutto quanto Perché il dio Non ha Non ha misericordia Delle vostre povere anime Perdute Non ha misericordia Di niente Oh Direi che stiamo Sopravvivendo Il più Il più possibile Oh creatura Non ti contorcere Non arrivare Fino a questi Limiti Tu Schifoso Cosa Cosa ho fatto Mi sono È fatto esplodere da solo Il dio di minecraft È stato leggermente scemo E ho fatto No È successo un casino Dunisiani Questo è un problema Vabbè ovviamente Quella là Non importa Cioè nel senso Chi se ne frega Se adesso non c'è più Però non vi ho fatto vedere Una freccia Talmente tanto speciale Che da Chiamarla speciale È proprio Un'eresia Cioè guardate Cioè questa è la freccia Che ci teletrasporta Cioè non so se avete capito Io faccio là E boom Sono qua Faccio là e Boom Sono là Porca miseria È una roba pazzesca Cioè veramente Però Il dio di minecraft Deciso Che qua la situazione Non può andare avanti Assolutamente Si scateneranno Fulmini sulle teste Di loro Di coloro Che oseranno Interrompere Il sonno del dio Basta Questo mondo Non merita Assolutamente Più in niente Deve Deve venire Cose brutte Eh Non so se mi state sentendo Però Porca miseria Guardate qua Eh Tutte le cose Che si stanno Contorcendo Il mondo Il mondo Sarà la fine Per lui Se farete Arrabbiare Il dio Dunis Basta però Queste spade Che Allora C'è un signore qua Che mi sta proprio Antipatico Però Non so se È buono usare La freccia di fuoco Per lui Eh Direi di no Allora usiamo La freccia di fulmine E scaraventiamolo Perché non può stare In questo mondo Lui deve stare Negli inferi Come è stato programmato Venire alza tutti questi mostri Devono stare negli inferi Perfetto Guardate Dunis Ma questo ciocco È una roba Fighissima Cioè Veramente bellissima Cioè guardate Io posso fare Spadabenfete E il dio di minecraft Fa così Ed è teletrasportato E poi adesso fa Spadabenfete di nuovo Eh no Ho sbagliato Ma porca miseria Questo dio di minecraft È un po' imbranato Comunque Se posso dir la mia Eh Eh Come osate Voi Avvicinarvi Oh creature Non vi permettete Mai più Non vi permettete Di venire in questo mondo Mai più Mai più Mai più Questo albero Non deve restare qua Questo albero È brutto È un albero maledetto Eppure voi maiali Non vi dovete permettere Mai più Scusate Dunisiani Questo arco Mi sta dando alla testa Guardate qua Ah Adesso mi teletrasporto Un po' lento però Cioè scusate Eh Scusatemi Ci sono questi schifosi Antipatici Eh Brutti schifosi Non vi permettete Mai più di venire qua Perché Basta Il dio di minecraft Ha già punito Abbastanza Queste povere Anime Allora Queste cose Però devono Devo finire Questo fuoco Perché anche il fuoco Può morire Per via del Dio di minecraft Eh Anche il fuoco Tutto può morire Tutto Pure Guardate il creeper Questa è la freccia Di fulmine Ah È diventato un Super No però Io switch Immediatamente Faccio Spedebempete È morto In me che non si dica Quindi Dunisiani Fatemi sapere Se vi è piaciuta Questa mod Perché si era Ovviamente Una mod E vuole frecce Più potenti Mai esistenti Sulla faccia Della terra Una cosa pazzesca Io voglio Voglio sempre Queste frecce Cioè le voglio Praticamente ovunque Dovrebbero aggiungerle A minecraft normale Secondo me Quindi se Vi è piaciuto Scrivete qual è stata La vostra preferita Fra queste che ho in mano Oppure Anche fra quelle Che vi ho fatto vedere Scrivetemi nei commenti Io vi do il cuoricino E quindi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Tunisiani